Piano piano arriviamo in fondo, andiamo per gradi, esatto. Colgo l'occasione per ricordare che i nostri chef fanno parte del team Cuocchi Marche. Magari molti non sanno che le Marche ha un team che gareggia durante delle gare. La prossima gara, se non mi sbaglio ragazzi, siamo il 20 di febbraio. Ci sono i campionati della cucina italiana a Rimini, all'interno di Rimini Fiera. E quindi le Marche saranno presenti col suo team e speriamo di portare a casa un bel risultato. Un bel risultato, prima parlavamo con l'assessore Antonini, si sta cercando anche di fare una legge regionale che possa tutelare l'identità delle ricette vostre, della vostra creatività e artigianalità e anche chiaramente il futuro del vostro saper fare. Questo vi orgoglisce, vi rende felici sapendo che il vostro lavoro viene gratificato? La Regione Marche ci ha chiesto di essere partecipi in questo progetto di codifica di questo menù di ricette tradizionali marchigiane. Noi cercheremo di dare il nostro contributo e sono sicuro che tutti insieme faremo un ottimo risultato. Grazie a tutti voi!